parlarvi della statuaria romana mi permette di introdurvi un argomento che è molto interessante e ancora molto molto attuale che è quello della ritrattistica pensate infatti quanto noi siamo legati alla trasmissione della nostra immagine noi siamo quasi ossessionati dalla fotografia dalla possibilità di immortalare ogni istante della nostra vita ecco grazie alla fotografia non abbiamo questa possibilità oggi ma tornando indietro nel passato nel lontanissimo passato soltanto la ritrattistica permetteva appunto di tramandare l'immagine di una persona in particolare parlandovi di statuaria ritrattistica romana posso distinguere è un argomento molto complesso ma proverò a distinguervelo e a semplificarvelo quindi dicendovi che in sostanza esistevano due tipologie di ritrattistica quella privata e quella a uso pubblico e di conseguenza propagandistico cerchiamo di capire bene di cosa stiamo parlando innanzitutto se parliamo del ritratto privato parliamo di una ritrattistica che si è sviluppata in particolare durante l'epoca repubblicana romana in seguito alla concessione che era stata fatta alle persone che appartenevano alla classe dei patrizi di poter conservare in casa le figie le sembianze poi trasformate appunto in statue dei loro antenati esisteva questo culto degli antenati e questa legge si chiamava ius imaginum permetteva appunto solo e soltanto ai patrizi di custodire in casa questi ritratti dei loro avi e le persone che si erano distinte nel lignaggio della loro genealogia che avevano compiuto quindi qualche impresa importante erano patrizi che spesso facevano parte del mondo del senato ad esempio e quindi persone che si erano distinte per la loro saggezza per il loro modo di porsi o forse per il ruolo politico civico o politico che avevano rivestito appunto a roma questo tipo di tipologia il ritratto privato quindi soltanto dedicato ai patrizi aveva una caratteristica importante che vi invito immediatamente a identificare ora se voi voleste un vostro ritratto la domanda che io faccio sempre è preferireste che fosse un ritratto perfettamente fedele quindi somigliante comprensivo quindi di eventuali chiamiamoli difetti no quelli quei tratti di originalità che ognuno di noi ha nel suo non nel suo volto nella sua visione omica oppure preferireste avere un'immagine di voi idealizzata che in fondo non rispecchia davvero il vostro carattere la vostra sembianza se non altro la risposta è un po faticosa ma è sempre la numero uno cioè il ritratto deve essere per essere un vero ritratto deve essere somigliante fedele veristico simile al vero ecco la ritrattistica privata quindi quella per il culto degli antenati avrà questo tratto questa caratteristica di verosimiglianza di sembianze molto simili alla realtà comprensivi quindi di quelli che noi ripeto definiamo difetti le rughe le strutture del naso la forma particolare di ogni singolo volto questo tratto realistico veristico deriverà alla statuaria romana alla ritrattistica romana in particolare dal suo legame con la cultura etrusca no vi ricordate che io ho mostrato alcune opere di statuaria etrusca proprio per raccontarvi di come questi tratti distintivi di realismo li abbiamo visti nella lupa capitolina li abbiamo visti nella chimera di arezzo li abbiamo visti nella statua dell'arringatore appunto questi tratti di realtà che servivano proprio ad avvicinare di più il personaggio rappresentato a chi guardava maggior ragione nell'epoca appunto romana e quindi torniamo a roma se era dedicato agli antenati quindi ovviamente una parentela che doveva riconoscere la propria linea il proprio no la forma del viso la forma degli occhi della bocca uno si riconosce quando si dice quando si vede una foto di un bambino si dice ah è tutto sua madre tutto suo padre ovviamente la riconoscibilità è un elemento importantissimo quindi la ritrattistica privata aveva questo scopo vi anticipo subito che si sarà poi invece un secondo genere di ritratto quello pubblico e propagandistico e in particolare è ovviamente sviluppato per celebrare le figure di grandi personaggi in particolare degli imperatori lo vedremo e vi anticipo subito anche qui che in questo caso ogni volta che occorrerà fare propaganda pubblica politica il riferimento stilistico sarà alla ripresa della grecia una ripresa dello stile allenistico anzi ellenico in questo caso nel senso proprio della rifarsi a quel mondo della perfezione ideale quindi all'idealizzazione non sarà più tanto importante quindi la somiglianza con il vero volto le vere fattezze dell'imperatore ma sarà importante il modo di raccontare l'idealizzazione tenete presente queste duplice aspetto no la fedeltà al vero o l'idealizzazione anche pensando a come noi amiamo mostrare le nostre sembianze l'opera che voi vedete in questo momento è il togato barberini la statua barberini ve ne parlo tra un attimo prima però voglio farvi capire ancora di più l'importanza del racconto del dato reale mostrandovi un video che vado a prendere dalla Khan Academy siamo sulla nostra solito sito che usiamo con per le lezioni in inglese ci stiamo parlando ci stanno presentando appunto un ritratto maschile veristico quindi stiamo parlando quindi della ritrattistica che ha queste caratteristiche che ci interessano di più in questa prima parte del lavoro questo face stands out it's really different from the tradition that will develop during the empire Augustus becomes the first emperor of Rome and establishes a tradition that looks back to ancient Greece and the tendency that we see there to idealize the human face and the human body so this kind of heuristic portrait will come to represent later on noble republican ideals what's interesting is that we see in the later images of emperors that they choose to some degree more or less to idealize themselves so that if they have themselves portrayed more realistically they're recalling the virtues of the ancient Roman Republic if they idealize themselves more they're recalling ancient Greek tradition so in other words this was a very conscious set of attributes it was a very conscious set of symbols that you could draw on more or less it was a visual language it's so interesting if you think about the way that we represent ourselves now if you open up a magazine you have young models that are ideal that are perfect and the older not given primary status in our visual culture but the ancient Romans at least for a moment felt differently ok torniamo alle nostre immagini ecco eh quindi questo questa vista no avete questo dettaglio di queste di queste teste che avete intravisto piene di eh rughe no evidenziavano la saggezza il tempo trascorso l'esperienza dei personaggi allora evidente che davvero c'era la volontà di eh esasperare appunto queste eh l'aspetto umano di questi personaggi ehm appunto eh che avevano preso parte alla vita pubblica politica anche se dicevamo erano ritratti di tipo privato eh sappiamo qualcosa in più eh di questa ritrattistica privata leggendo quello che eh Polibio ci racconta eh Polibio eh andrà a Roma eh nel 166 avanti Cristo quindi vi do ho anche un po' questa datazione sentite che cosa ci racconta eh vedendo appunto assistendo ai rituali che venivano celebrati a Roma quando qualche illustre personaggio muore celebrandosi le esequie è portato con ogni pompa nel foro presso i cosiddetti rostri e divi posto quasi sempre dritto e ben visibile raramente supino quindi veramente esposto no in piedi come se fosse ancora vivo da celebrare mentre tutto il popolo circonda il feretro il figlio se ne è uno maggiorenne e se si trova presente o in mancanza qualcuno della famiglia sale sulla tribuna rammenta le virtù del morto e le imprese felicemente compiute in vita perciò fra la moltitudine non solo coloro che hanno preso parte a quelle imprese ma anche gli estranei gli uni richiamando alla memoria raffigurandosi gli altri il passato del defunto tutti si commuovono a tal punto che la perdita appare non limitata a coloro che sono in lutto ma comune a tutto il popolo quindi i personaggi luti che se ne vanno vengono celebrati vengono raccontati come se fossero una perdita comune a tutto il popolo romano dopo la laudatio funebris quindi no questo momento della lode no del ricordo il morto si seppellisce con gli usuali riti funebri e la sua immagine chiusa in un relequiario di legno viene portata nel luogo più visibile della casa quindi c'è un'immagine che viene tratta dal defunto l'immagine è una maschera di cera che raffigura con notevole fedeltà la fisionomia e il colorito del defunto in occasione di pubblici sacrifici espongono queste immagini e le onorano con ogni cura e quando muore qualche illustre parente le portano in processione nei funerali applicandole a persone che sembrano maggiormente somiglianti agli originali per statura e aspetto esteriore costoro se il morto è stato console o pretore indossano le toghe preteste cioè urlate di porpora se censore toghe di porpora e ricamate in oro si è ottenuto il trionfo o qualche altra onorificenza del genere allora abbiamo scoperto che c'era questo rituale celebrativo dei defunti di lignaggio importante ma abbiamo anche scoperto che con questa possibilità di mantenere in casa le immagini dei loro antenati i patrizi potevano ricavare un calco in cera del volto del defunto che però poi veniva trasformato spesso in una statua in bronzo o in marmo come quella che noi stiamo vedendo in questo momento perché aveva quindi la possibilità di essere conservata più a lungo sappiamo anche in questo caso da plinio che nelle case nelle domoste romani esistevano delle specie di armadi in cui venivano riposte queste statue che potevano essere appunto esposte soltanto in occasione delle celebrazioni importanti per la famiglia appunto come quelle che abbiamo appena sentito vi sto mostrando come dicevo prima questa statua che si intitola il togato barberini la statua barberini dal nome della illustre famiglia che l'ha collezionata ma questa statua mi permette di proporvi una serie di tematiche importanti la prima delle quali riguarda il fatto che siamo davanti a una statua che dal punto di vista stilistico come vedete è molto lontana dalla perfezione dei greci a colpo d'occhio lo vedete a livello delle proporzioni c'è qualcosa che non torna guardate come le gambe le ginocchia non siano rispettate nelle proporzioni forse era fedele la manifattura per quanto riguarda le fattezze del personaggio ritratto non sappiamo chi sia ma forse qui stiamo parlando anche di una manifattura che talvolta non era così raffinata così sofisticata ma questo già andando sulla parte stilistica ed è l'ultima di cui dovevo parlarvi torniamo quindi alla cosa iniziale è una statua a figura intera eretta estante che tiene tra le mani due teste di due personaggi evidentemente due antenati se voi guardate c'è una certa somiglianza tra le due teste cosa che non può dirsi del tutto della testa del personaggio nello stesso togato perché in realtà noi sappiamo che la testa appartiene a un tipo di marmo diverso quindi è stata aggiunta alla statua quindi il personaggio la testa non possiamo concentrarci più di tanto su di lui ci concentriamo sul fatto che appunto una cosa molto curiosa pensateci abbiamo lavorato a lungo sulla perfezione secondo i greci ecco immaginatevi che spesso gli scultori che realizzavano queste opere potevano provenire dalle stesse botteghe greche magari uno di questi prigionieri portati a roma a lavorare o comunque che magari devono insegnare questa la lavorazione del marmo ma al di là di questo provate a pensare che appunto se abbiamo lavorato a lungo vi ricordate il canone di policletto che ci fissava delle misure proporzionali la testa doveva essere un ottavo dell'intero corpo oppure il canone trasformato dall'isippo c'erano delle misure proporzionali ecco qui non soltanto non vengono rispettate come dicevamo prima ma prima ancora più importante ancora per i romani bastava la testa come ritratto del tutto immaginate la follia secondo i non di vedere che questa testa veniva staccata dal resto del corpo quasi davvero a proporci il ritratto nel bastava la testa ecco per il tutto la rassomiglianza del volto bastava a rappresentare davvero qualcosa di molto curioso un'altra cosa a questo punto che faccio notare il nostro personaggio indossa la toga già nel video che abbiamo visto poco fa della canacademy abbiamo sentito che quando i personaggi indossavano la toga evidentemente rivestivano un certo ruolo perché la toga rappresentava il perfetto cittadino romano quindi si è portati a pensare che fosse davvero parte del senato ad esempio ma vorrei farvi vedere come questa manifattura non sia così raffinata e ritorno quindi allo stile vedete che anche soltanto non il sostegno interno alla composizione che serve a reggere questa testa è grossolano guardate la manifattura dei piedi no sono veramente appena bozzati guardate ancora molto bene lo vedete qui appunto no la queste queste gambe con questa proporzione non perfettamente descritta o mantenuta ma lo stesso panneggio della toga non è così raffinato torneremo a parlare di questi aspetti in un secondo momento a questo punto voglio mostrarvi qualche altra statua che per uso privato siamo sempre nell'epoca della ritrattistica repubblicana in particolare della fine dell'epoca repubblicana davvero si concentrava su questa rappresentazione impietosa ma fondamentale delle fattezze del singolo di quello che noi abbiamo definito ancora una volta il difetto ma difetto ripeto non come caratteristica negativa ma quanto come tratto caratteristico vedete appunto queste rughe molto descritte questo è un ritratto virile del museo di torlonia ce l'ho anche nella versione ecco un po brutta la foto però qui ci fa vedere appunto il profilo vedete questo naso adunco le labbra serrate no la protuberanza delle labbra gli occhi scavati appunto le palpebre calate evidentemente tutte queste caratteristiche che abbiamo imparato a riconoscere raccontavano le vere fattezze la vera la vera apparenza del personaggio ma forse si osperavano anche i tratti caratteristici quindi se questo personaggio aveva avuto una certa esperienza la sua vecchiaia la sua la rappresentazione di un'età adulta matura poteva evidenziare anche evidentemente no questi questi tratti la sua esperienza la sua saggezza le rughe spesso rappresentano sono rughe di esperienza rughe di no che ci raccontano del pensiero e quindi possono essere visti in senso positivo in questo senso guardate anche quest'altra testa di questo vecchio di osimo così viene definito appunto dall'uovo sempre del rinvenimento vedete come il volto reso quasi flaccido noi a noi risulta quasi imbarazzante no nella presenza di queste rughe così insistite ma evidentemente questo era fondamentale per chi sceglieva di fare un ritratto di questo tipo allo stesso modo vi mostro il ritratto di una donna ho trovato soltanto questa non ho cercato tantissima ma ho trovato questo ritratto visto di questa foto vista di tre quarti immaginate così la possiamo vedere intravedere sia di fronte che di profilo vedete appunto con una conciatura accurata ma anche qui non è certamente per è una donna di una certa età e quindi sicuramente è una donna anziana della fine del primo secolo avanti cristo inizio del primo secolo dopo cristo ed è custodita al museo nazionale romano ma anche qui non viene messa in evidenza quella che poteva essere la bellezza di un tempo si orita viene messa in evidenza la caratteristica perché anche il culto degli antenati si applicava anche alle donne questa è una cosa curiosa che voglio raccontarvi finisco questo video direi parlandovi di qualcosa di curioso ora abbiamo detto che bastava la testa dei singoli personaggi per il tutto dalla testa vedremo che poi i romani svilupperanno una tipologia ritrattistica che è quella del busto il busto comprende la parte alta del tronco e le spalle pensateci quando noi guardiamo oggi i film senza rendercene conto l'inquadratura che più spesso ricorre quando c'è ad esempio un dialogo tra due persone è l'inquadratura o quando serve presentare il personaggio staccandolo dal suo contesto o meglio inserendolo nel contesto ma concentrando l'attenzione dello spettatore sul volto del personaggio se non è un primo piano diretto stretto come questo abbiamo invece un mezzo busto cioè quindi dal torso in su quello che viene definito il piano americano l'inquadratura americana ma questo è del cinema però per farvi capire che invece la possibilità era quella l'altra possibilità che invece si presentava ai romani era quella di un ritratto a figura intera ecco in talunni casi nuda perché noi sappiamo che le statue greche che abbiamo trovato fino a questo momento per quanto riguarda il mondo maschile in particolare erano nudi erano nudi maschili ma immaginatevi la ritrattistica nuda diventava in talunni casi davvero imbarazzante come il caso di alcuni imperatori come questo che state vedendo addirittura in bronzo con questo fare con questo di nuovo questo gesto di rivolgersi al suo popolo quindi con un riferimento vedete come vi dicevo prima all'arte greca questa idealizzazione il tentativo di idealizzazione dopodiché risulta veramente comico se mi permettete l'effetto appunto di questo ritratto che deve essere però un ritratto che però diventi idealizzato e tra l'altro con delle proporzioni tutt'altro che rispettate stessa cosa per questo personaggio questo sconosciuto non sappiamo chi sia ma immaginatevi che un Patrizio Romano si facesse fare appunto il ritratto da una bottega di artisti che trovava a sua disposizione e magari sentendosi particolarmente illustre e importante chiedeva di avere un ritratto che potesse prendere spunto dalla statuaria greca che nel frattempo come sappiamo arrivava in grande quantità a Roma risultavano ridicole queste statue ripeto mi permetto di dirlo con col sorriso ci racconta anche di una cosa importante che vi propongo come tematica su cui riflettere e cioè che talvolta la manifattura di una statua è buona non soltanto se è buono l'artista che la realizza ma se è buono il gusto di chi la commissiona io credo che un personaggio che ha voluto mi viene da sospettare che un personaggio che ha richiesto una sua statua di questo tipo questo nudo Achilleo così venivano definiti appunto questi nudi che si riferivano all'antichità greca volesse idealizzare il suo personaggio, le sue fattezze davvero ci sembra di vedere anche nella postura il chiasmo del canone di Policleto appunto del Doriforo ma davvero risulta in parte reso ridicolo perché non stiamo parlando dell'antica Grecia perché non stiamo parlando di chissà quale grande personaggio ma soprattutto vedete che quindi viene messa in gioco anche l'incapacità del committente stesso colui che ha richiesto l'opera di riconoscere la bontà stilistica di un'opera magari si trattava anche di committenti che non investivano tanto denaro in queste statue quindi anche qui, anche questo è un altro argomento importante se c'è molto denaro, molto tempo per realizzare l'opera ci si rivolge alla migliore bottega di scultori ecco allora magari il risultato diventa molto buono se invece ci si rivolge a una bottega mediocre con un budget diremmo oggi una quantità di denaro da spendere contenuto limitato e se il gusto stesso, la cultura del personaggio per quanto patrizio, per quanto ricco, per quanto con un ruolo ma se manca la cultura estetica il gusto, lo stile non viene riconosciuto in quanto tale ecco non basta il denaro per poter realizzare una buona opera adatta vi propongo anche questa tematica che per noi è ancora molto attuale perché noi siamo circondati da immagini in ogni dove ma io vorrei che voi imparaste che diventasse critici nell'imparare a riconoscere quali sono i tratti che possono rendere se non altro interessante un'opera che vedete o quali sono i tratti che la rendono bella oppure il riconoscere l'interessante nel brutto anche questo assolutamente parte del nostro percorso ma vi ripeto ancora non perché una statua è antica e noi la stiamo studiando diventa necessariamente bella non perché un committente ricco si fa fare una statua quella statua può essere necessariamente bella sono tematiche scottanti che vi sto proponendo su cui rifletteremo anche nei prossimi video grazie a tutti